Prego. Intervengo sull'ordine dei lavori. Come avevo preannunciato al Presidente Fico, avrei preso la parola ogni settimana, fin tanto che non fosse stato dato avvio alla Commissione di inchiesta sugli affidi e le case famiglia, per denunciare la totale assenza da parte delle istituzioni di questo Governo e di questa maggioranza rispetto alla tutela di quei bambini più fragili. Sono 225 giorni di attesa sulla pelle dei bambini. Bambini che sono in estrema difficoltà, allontanati dai propri genitori, come raccontano l'estrema difficoltà dei bambini che a Massacarrara, nella casa famiglia, hanno subito maltrattamenti e abusi. Come raccontano i fatti e le richieste d'aiuto di quei quattro fratellini di Cuneo che da oltre un anno sono stati separati. Come racconta la disperazione del papà di Violetta. Storie come questa che chiedono che le istituzioni intervengano subito. E invece siamo ancora qui ad aspettare. E allora mantengo la mia promessa. Richiamo quindi questo Parlamento, richiamo l'ufficio di Presidenza, richiamo lei anche Presidente, a potersi far carico di dare tempestivo avvio alla commissione d'inchiesta sugli affidi e le case famiglie. 22, 225 giorni di attesa non sono giustificabili, non sono tollerabili. Questo era lo strumento che il Parlamento pensava necessario per tutelare i bambini. E allora questo provvedimento deve diventare realtà subito. Basta aspettare.